Parliamo adesso di come entrare nella modalità divinità in discoteca, quindi cosa vuol dire questa cosa? Non so se ti è mai capitato di sentirti che magari prendi il ritmo durante la serata e ti senti onnipotente, che puoi fare qualsiasi cosa. Magari ti è capitato con l'alcol di mezzo, ok? Adesso vedremo qua come si fa senza l'alcol e parleremo esattamente appunto della prima cosa adesso riguardo all'alcol, quindi fondamentalmente andiamo a parlare di come ci si va a riscaldare per appunto entrare in questa modalità dove poi chiaramente quando interagisci con una ragazza che hai una sicurezza interiore spaventosa, ti stai super divertendo, è chiaro che la ragazza è risucchiata all'interno della tua energia, all'interno della conversazione, poi è molto facile fare qualsiasi altra cosa se effettivamente poi sai che cosa devi fare, perché non è che automaticamente se sei iper coinvolgente, automaticamente la baci, automaticamente ci fai sesso, devi anche sapere poi che cosa fare, ok? Quindi un'energia coinvolgente poi non è sufficiente. Quindi iniziamo a parlare del discorso innanzitutto dell'alcol, quindi non consiglio, se vuoi scopare, se non vuoi scopare non seguire quello che ti dico, se vuoi scopare non consiglio di prendere alcol quando vai in discoteca, quindi o meglio te lo prendi però dopo quando effettivamente ti hai iniziato ad approcciare, ma non devi prenderlo perché non devi prenderlo con la finalità di andare a fondamentalmente quello che tu pensi, superare l'ansia approccio, tu non stai superando l'ansia approccio con l'alcol, la stai andando a anestetizzare, la stai andando a sopprimere quello che la gente pensa, quello che è la termologia da mondo comune, ah l'alcol toglie i freni inibitori, no, l'alcol semplicemente va a sopprimere e anestetizzare le paure, quindi di conseguenza lascia la strada alla sicurezza interiore che emerge, ma il problema è che è una sicurezza interiore che poi è molesta, prima di tutto per il fatto che appunto nel momento in cui sei ubriaco, non sai interagire poi correttamente con una ragazza, le ragazze odiano quando gli uomini sono ubriachi in discoteca, infatti tante volte quando ti approcci in maniera anche molto carica ed energica, qualche volta, anzi tante volte, può capitarti che appunto le ragazze ti chiedono, ma sei ubriaco? Ok? Quindi te lo possono chiedere anche se sei perfettamente sobrio, perché magari appunto ti stai approcciando con un'energia molto coinvolgente, molto sicuro, molto sfacciato, e il fatto che tu sia sobrio è una cosa che è nuova per le ragazze, di solito non sono abituate a essere approcciate da gente sobria, ok? Quindi non prenderti l'alcol finché non inizi a approcciare, quindi molte volte si ha una consumazione inclusa in discoteca, benissimo, ok? Tieniti la consumazione inclusa, te la tieni per dopo per quando poi inizi a approcciare, per esempio quando trovi una ragazza con cui effettivamente può valerne la pena spenderci un po' più di tempo insieme e utilizzi il drink che hai incluso per spostarla dalle amiche, ok? Però è assolutamente vitale che ti riscaldi senza l'alcol, se no sarai sempre dipendente dall'alcol per iniziare a approcciare, e non concluderai mai niente, ti porterai per sempre dietro l'ansia di approccio. Non mi sembra, è una situazione molto piacevole, anche perché se poi effettivamente cosa fai? Negli appuntenti ti devi alcolizzare per parlare con una ragazza in un appuntento? Oltretutto sei poi soltanto limitato agli approcci in discoteca, esistono anche gli approcci di giorno, questo è un corso che tratta gli approcci di discoteca, ma esistono anche gli approcci di giorno. Cosa fai? Se vuoi approcciare, se vuoi imparare anche l'abilità dell'approccio di giorno, ti alcolizzi ogni volta che devi approcciare il giorno, non mi sembra una soluzione migliore, quindi non prendere l'alcol finché inizi a approcciare, perché non stai superando le paure, non stai rimuovendo le paure, stai andando a sopprimere, te le porti dietro per tutta quanta vita. Adesso qua vediamo una serie di esercizi, modi di fare, cosa che puoi fare per andare a caricarti, barra a riscaldarti. Ora, queste cose qua le vediamo, perché questo concorso di base si rivolge, la maggior parte delle persone che acquistano questo corso, comunque sono più negli inizi, con poca o nessuna esperienza in discoteca, o magari anche se sei andato tante volte in discoteca, magari non hai mai ottenuto molti risultati, però più vai avanti, più inizio effettivamente a ottenere risultati, in termini di sesso, non in termini di numeri di telefono, baci, eccetera, più queste cose non ti serviranno, perché sarai sempre in uno stato emotivo di base che è già riscaldato. Poi sì, in discoteca è sempre più opportuno, anche se magari è un esperto, anche se io vado in discoteca, sì, un pochino, comunque ci pongo attenzione sulla questione del riscaldarmi, però neanche troppo. Posso anche stare un'ora in discoteca senza approcciare a nessuna e dopo un'ora di tempo in discoteca tranquillamente iniziare ad approcciare. Se fai questa cosa agli inizi, che appena entri in discoteca, stai un'ora di tempo senza approcciare, se sei un principiante, vieni schiacciato nell'ambiente della discoteca. Ricordati, più fai, meno l'ambiente fa a te, soprattutto per la discoteca. La discoteca ti schiaccia come ambiente, se non inizi a fare qualcosa fin da subito, ok? Più vai avanti, più di niente esperto, più queste cose qua. Diciamo, ci puoi non prestare più attenzione. Quindi una delle cose che puoi fare è per esempio iniziare ad approcciare già durante la giornata, prima di arrivare in discoteca. Quindi durante la giornata può voler dire, per esempio, approcci di giorno, quindi se non sai come si approcci di giorno, abbiamo anche dei corsi dedicati a questo. Però, occhio anche alle energie, però, perché se effettivamente esci già di pomeriggio per approcciare di giorno, così effettivamente poi arrivi alla serata in discoteca, che sei già riscaldato, sei già abituato a interagire con le ragazze, sì, è vero che è una cosa che aiuta, però, occhio, perché se inizi dalle 3 di pomeriggio e vai in discoteca a mezzanotte, cioè, arrivi che sei distrutto. Ora, io l'ho fatto tantissime volte questa cosa. Soprattutto agli inizi, c'era sempre, forse era sempre il sabato o il venerdì, che facevo però la sessione proprio di infinita, che iniziavo ad approcciare di giorno, verso le 2-3 di pomeriggio, poi alle 8 di sera andavo a cena con altri con cui uscivo a approcciare, poi dopo cena andavamo in un'altra zona, io ai tempi vivevo a Milano, e andavamo a piedi dal Duomo di Milano, andavamo a piedi fino ai Navigli, che è una zona di Milano dove si approccia di sera, proprio strada, e quindi facevamo comunque ancora lì approcci per strada, però di sera, fino più a mezzanotte, poi a mezzanotte ci dirigevamo in discoteca, si stava in discoteca fino tipo alle 5 del mattino, come abbiamo visto in lezioni precedenti, la mentalità deve essere o si scopa, oppure si rinunane fino a fine serata, e quindi se effettivamente non si scopava, si stava in ballo dalle 2-3 di pomeriggio, fino poi alle 5 di notte, cioè è una sessione veramente lunghissima, chiaramente con delle pause in mezzo, mangi in mezzo, ti riposi in mezzo, però è veramente lunghissima, se non sei abituato a fare una cosa del genere, cioè schiatti facendo una cosa di questo tipo, quindi però sono anche poi queste sessioni enormi, che poi ti fanno diventare molto bravo velocemente, quindi non devi fare per forza la sessione che inizi di pomeriggio, consideralo, però magari inizia a uscire già di sera, e approcciare di sera in zone serali che ci sono nella tua città, c'è sempre il venerdì e sabato sera una zona della città, anche se vivi in una piccola città, ci sono sempre le zone della città dove ci sono dei bar, dove la gente confluisce lì in quella parte della città, e poi iniziare un po' a riscaldarti, approcciando per strada però di sera in zone di bar, e poi a mezzanotte vai in discoteca, arrivi in discoteca e sei già più riscaldato, oppure se per esempio vai all'aperitivo della discoteca, dipende se quella discoteca fa l'aperitivo, molte volte magari l'aperitivo apre magari verso le 7, le 8, e c'è fino tipo alle 10 e mezza, dipende da quella discoteca, e in quella fascia di orario lì, può comunque magari iniziare già ad approcciare qualche ragazza che c'è in giro lì per l'aperitivo, in modo che poi dopo sei più riscaldato, per quando effettivamente inizia la serata vera e propria. Poi un'altra cosa che potresti fare per andare a riscaldarti, e pomparti per arrivare in discoteca, è per esempio cantare, cantare in macchina, quindi se vai in discoteca in macchina e guidi te, non so se guidi che sei da solo, oppure se vai con degli amici, non lo so però, io non mi ricordo se la facevo, però penso proprio di sì, ma anche semplicemente comunque, cioè divertente, cantare magari se sei da solo in macchina, anche se ti metti le tue canzoni preferite, e canti, ok? Quindi è semplicemente questo consiglio, molto semplice, però inizi a essere in movimento, a parlare, a utilizzare la voce, e questo poi ti fa essere più riscaldato, per quando effettivamente dovrai interagire, quando sei in discoteca, ti inizi a mettere in un mood, più positivo, più propenso all'interazione sociale. Poi un'altra cosa che questa la consiglio, o meglio la metto qua in questo menu, però è una cosa che io personalmente non facevo, di volte sì, mi capitava, però adesso ti dico prima, il parlare in fila con altre ragazze, quindi in discoteca di solito, quando entri, di solito c'è sempre una fila, poi se ti capita, non so se ci sono delle ragazze che sono di fianco, quindi davanti a te nella fila, o dietro a te nella fila, puoi iniziare a parlarci, puoi iniziare a interagirci, ok? Poi vedremo più avanti in questo corso, le frasi approccio, il che cosa dire nella conversazione, quindi qua adesso, semplicemente, stiamo parlando di come appunto, ci si riscalda, quindi puoi semplicemente iniziare a parlare con le ragazze, che ci sono lì, nella fila, magari ti agganci a quello che stanno incendendo, perché magari senti, un pezzo della conversazione, e ti unisci alla loro conversazione, magari rispondendo a qualcosa, che hanno detto loro, ok? Poi tanto ti ripeto, vedremo in lezioni successive, il che cosa dire nella conversazione, il come anche iniziare la conversazione, personalmente è una cosa che io, la odio, cioè, mi faccio i cazzi miei, quando sono in fila, ma non perché non so approcciare, non voglio approcciare, cioè sì, perché non voglio approcciare, ma non ce voglio, in fila mi vuole fare i cazzi miei, ok? Non ce voglio, pretanto poi so che la serata inizia, quando entro in discoteca, e so farmi intercreditare la serata, ottenermi i risultati, quindi mi sta sul cazzo, non è parlare con la gente in fila, poi qualche volta che è capitato, qualche volta magari che ero con altre persone, in discoteca con altri amici, magari iniziavano loro la conversazione, quindi dicevano, vabbè, gli faccio la spalla, oppure di volte capitava, che magari delle ragazze, capita, delle volte alcune ragazze, dovevano saltare la fila, quindi tipo fanno, non so, permesso, 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 oppure tipo si inseriscono, fanno tutte le dolci, i gentili, e capita, non sempre, che si inseriscono, e dicevano, scusate ragazzi, possiamo inserirci, quindi, e gli uomini, ovviamente, come degli ebeti, le fanno passare, ma va bene, tanto non è che cambia, se fai passare avanti una ragazza nella fila, e però mi ricordo che una volta, in questo modo qua, ero appunto con un mio amico in discoteca, c'erano due ragazze, che hanno voluto saltare la fila, inserendosi così, e ci sono interfacciate, erano i clienti in maniera sorridente, perché altrimenti, non riuscirebbero a fare una cosa di questo tipo, e il mio amico ci ha iniziato a parlare, quindi ho fatto da spalla, poi, quando è entrato in discoteca, lui si è limonato, una di queste due, quindi, però, personalmente, io, non è una cosa che mi piace, interagire in fila con, se ci sono delle ragazze, quindi, perché, semplicemente so farmi la mia serata, da quando entro in discoteca, però, è una cosa che puoi considerare, se la vuoi fare, quindi, l'ho semplicemente aggiunta al menu, per completezza, poi, parliamo un attimo del discorso, dell'uscire in discoteca con amici, o uscire in discoteca da solo, e per alcuni, sarà anche una cosa nuova, cioè, ah, ma è possibile uscire in discoteca da solo, cioè, quindi, sì, è possibile uscire anche in discoteca da solo, e, ne ha come beneficio il fatto, cioè, che diventi molto più bravo con le donne, molto più velocemente, perché, beh, devi andare ad affrontare la paura del giudizio degli altri, per esempio, devi, appunto, andare a non farti schiacciare dall'ambiente, devi fare interazioni tu, da solo, o di gruppo con le ragazze, devi essere in grado di divertirti tu da solo, quando sei in discoteca, riuscire a prendere il ritmo a solo, che chiaramente, tutto quanto più difficile, se non hai qualcun altro con te in discoteca, e quindi, per questo, poi, se riesci effettivamente a fare anche delle uscite in discoteca da solo, diventi veramente molto, molto, molto esperto, molto velocemente, quindi, qua lo menziono, però, ci sta, comunque, va bene, va bene anche andare in discoteca, inizialmente con gli amici sfigati, con i tuoi amici, e tanto non concluderanno mai niente con le donne, che state lì a osservare le ragazze, che non ci fate assolutamente nulla, però, comunque, consiglio ogni tanto di provarci, a farti un'uscita in discoteca da solo, ne guadagni un sacco, un sacco, un sacco, in crescita interiore, in superamento della paura del giudizio, gli altri, e ricordati, che il problema mentale, è soltanto tuo, è soltanto la tua testa, ok, alla gente non gli frega niente, tu sei lì da solo in discoteca, non lo nota nessuno, anche la gente è lì, che vede che sei da solo, ah, guarda da solo, non c'è questa cosa, è semplicemente la tua paura del giudizio, che sta parlando nella tua testa, ma non è effettivamente un problema oggettivo, la gente non è che nota se sei da solo o no, ok, cioè potresti essere un attimo da solo in quel momento, magari agli amici o a qualche altra parte, ma anche quando magari sei con amici in discoteca, e magari sei, rimani un attimo da solo, ti stai spostando, stai andando in bagno, ti stacchi un attimo dai tuoi amici, non è che tu pensi, ah, cazzo la gente adesso mi vede che sono da solo, no, ok, perché sai che sei in discoteca con altre persone, quindi, ma la gente non è che sa che sei lì in discoteca da solo, e soprattutto la gente non è lì a osservarti, la gente non mi frega un cazzo, ok, sono tutti quanti immersi nel proprio dialogo interiore, quindi tutti quanti, tutte quante le paranoie mentali che hai tu, ce le hanno anche gli altri, ok, quindi tutti quanti anche gli altri, sono i che pensavano, sono in una postura giusta, devo tenere le mani in tasca giuste, forse devo tenere il drink così, io lo tengo più in giù per apparire figo, questo è il dialogo interiore dell'uomo medio, in discoteca, ok, tu pensi veramente che ci sia la gente lì in discoteca che ti osserva, e dice, ah guarda quello lì è da solo, guarda che sfigato, non esiste, questa cosa è tutto quanto un dialogo interiore, che accade nella tua testa, dovuto alla paura del giudizio degli altri, e sì, ti fanno entrare in discoteca, anche se entri da solo, quindi ci può stare che inizialmente, continui a uscire in discoteca con i tuoi amici sfigati, però tenendo conto che, cioè, se esci con persone, che non sono allineate con quello che vuoi fare, ti tireranno soltanto giù, ok, non è che non saranno di aiuto, sono proprio controproducenti, ok, quindi però, per iniziare, va bene, perché le andate a uscire in discoteca da solo, è veramente poi molto difficile, poi consiglio, per chi non ce l'ha, di acquistare magari, il videocorso dall'approccio alla camera letto, che include anche il gruppo Facebook, con tutti quanti gli altri membri del corso, ci sono centinaia e centinaia di persone, sparpagliate in giro per l'Italia, in modo che magari puoi trovare anche persone, che sono allineate effettivamente con i tuoi obiettivi, e con cui puoi uscire insieme a far serata, e soprattutto appunto, che sanno effettivamente quello che state facendo, perché ripeto, poi l'avrai già visto anche su te stesso, che magari sei in discoteca con amici, che non c'entrano niente, che non hanno il terrore di approcciare, come magari ce l'hai te, e che sono controproducenti, ok, continuando ad uscire con persone, che non sono allineate a quello che vuoi fare te, e pensi veramente che riuscirai a ottenere quello che vuoi, o pensi che semplicemente continuerai a rimanere come sei, e come sono loro, e da qui ci colleghiamo a un discorso, sempre riguardo a questo argomento, ovvero che non ti serve per forza una spalla, per ottenere risultati in discoteca, quindi per spalla si intende il tuo amico, che ti fa da spalla, che ti fa da supporto, che andate a approcciare magari in due, non ti serve per forza una spalla, per approcciare in discoteca, per ottenere risultati in discoteca, chiaramente è più facile, se hai una spalla, ma qualcuno effettivamente ti fa da supporto, che effettivamente è anche lui capace, che sa le cose che sei te, che effettivamente è più o meno allo stesso livello, in cui sei te, o magari anche più avanti, rispetto al tuo livello, e come ti ho già detto, cioè se esci con persone che non hanno idea di cosa stanno facendo, sono a un livello molto più basso del tuo, o non hanno idea, hanno un sacco di limiti mentali, di paure, e lì non, cioè sono proprio controproducenti, però sappi che puoi ottenere risultati in discoteca, anche approcciando per conto tuo, quindi anche se esci con amici sfigati, se riesci a superare la paura del giudizio degli altri, staccati, staccati dal gruppo, e approccia davanti ai tuoi amici, fai lo spettacolo, fai lo show, fagli vedere quello effettivamente si può fare, poi la maggior parte tanto non continueranno a non fare mai niente con la loro vita, qualcuno potrebbe magari ispirarsi, e magari interessarsi anche a lui, e lì gli devi spiegare effettivamente un attimo le cose che ci sono, anche in questo corso, se vuoi convertirlo in spalla, in effettivamente persona che ti fa da supporto, però non contarci troppo, perché questa è la storia di tutti quanti, quando si entra in contatto con questo ambito, ne si è entusiasti, e poi, se qui si tenta di tirare dentro i propri amici, la maggior parte oltre, non ha senso, semplicemente perché non vedono ancora un'oggettività di risultati in te, la maggior parte delle persone che pensano che siano tutte quante cazzate, siano truffe, di essere te stesso, aspetta la ricola giusta, ma io vado lì e io lo appoggio, e tutti quanti che non scopano, quindi, qualcuno potrebbe ispirarsi nel tempo dopo che vede dei risultati, ok, ma anche dopo che vedono i tuoi risultati, non ci contare troppo, quindi per quello non ti consiglio di puntare sugli amici con cui esci attualmente in discoteca, però sappi che non ti serve per forza appunto una spalla per ottenere dei risultati, però chiaramente lì devi fare un po' di esperienza per essere autosufficiente in discoteca, per riuscire a ottenere dei risultati, anche approcciando da solo, perché in discoteca non ci sono ragazze da sole, possono essere temporaneamente da sole, ma comunque sono tutte quante lì in gruppo, ok, se becchi una che da sola, cioè sono quelle occasioni d'oro che ti capitano una volta ogni sei mesi, una volta all'anno, ma soltanto se esci effettivamente ogni settimana, quindi è per appunto approcciare da solo dei gruppi, e devi essere già un minimo più esperto, però ci si rende esperti con la pratica, lo vediamo poi più avanti in questo corso riguardo a come si approccia, come si approccia in gruppi, eccetera, poi come ti ho già detto, ricordati che più fai, meno l'ambiente fa a te, quindi appena metti i piedi in discoteca, inizia subito a fare qualcosa, adesso vedremo il cosa, perché altrimenti rimani schiacciato dall'ambiente, dalla musica, dal caos, e rimani schiacciato nella tua testa, ok, quindi è importantissimo, inizi subito a fare qualcosa, per uscire dalla tua testa, per entrare già fin da subito, in una modalità più sociale, ok, poi altra cosa per andare a riscaldarsi, è trovare quelli che sono i tuoi cosiddetti bottoni interni, quindi quali sono quelle cose che ti fanno divertire, quelle cose che ti mettono in una modalità, in un umore più divertito, ok, e sono diverse da persona a persona, quindi non sono, poi puoi fare un attimo il check con te stesso, chiediti quali sono le cose che effettivamente ti divertono, ti fanno ridere, possono essere delle cose che vedi, delle cose che fai, delle cose che dici, delle cose che dice qualcun altro, quindi inizia a notare, nel corso delle tue giornate, quando effettivamente ridi, e ridi di gusto, facci caso, magari scrittelo da qualche parte, perché hai riso di gusto, è stata una battuta che ha fatto qualcuno, un qualcosa che hai detto te, un qualcosa che qualcuno ha fatto, un qualcosa che hai visto in un video, un qualcosa che non lo so, ok, può essere veramente qualsiasi cosa, e trova il modo di collegarlo a interazioni con ragazze, o comunque delle cose che puoi fare tu, prima di iniziare ad approcciare, per appunto metterti in una modalità divertita, per esempio, ce ne sono diverse, alcune ti sembrano anche stupide, ma perché sono stupide, ok, altrimenti non ti metterebbero in un umore divertito, se qualcuno ti piace puoi provarla, però ti ripeto, sono diverse da persona a persona, per esempio, uno studente, una volta in ecossia vivo, lui si divertiva, approccia le ragazze, lo vedremo poi nella parte su come si approccia una ragazza, devi prima prendere attenzione, lui si divertiva, prende l'attenzione delle ragazze, dicendo scusami, ma dicendolo in maniera molto enfatizzata, dicendo tipo, scusami, non so, con una voce molto profonda, e lei si divertiva facendolo in questo modo, ok, e quando effettivamente fai un approccio in questo modo, che già tu di tuo sei divertito, e la ragazza viene risucchiata nella tua energia divertente, ma perché tu in primis ti stai divertendo, non c'è modo di divertire la ragazza, di coinvolgere la ragazza, se non sei tu in primis che ti stai divertendo, ok, quindi appunto il divertirti è uno dei modi, se non il modo sovrano per andare appunto a riscaldarti, oppure per esempio un'olta, uno studente in un corso a vivo, che praticamente andava dalle ragazze, che erano ferme, che tipo creava un fraintendimento, come se praticamente quella ragazza lì, fosse un suo appuntamento a Tinder, quindi, cosa vuol dire, lui andava a dare ragazze, che erano lì ferme, in una situazione di giorno, però tanto il discorso è lo stesso, sono soltanto esempi, e andava a dare ragazze, che erano ferme, di giorno, e diceva, ma tu sei per caso Martina? La ragazza ovviamente diceva no, e lui diceva, ah perché sto aspettando un appuntamento a Tinder, con una ragazza che è Martina, che si chiama Martina, siccome non l'ho vista in foto, creava questo siparetto qui, che a lui lo faceva ridere, creare questo tipo di fraintendimento, di incomprensione, può essere qualsiasi cosa, ok? Possono essere, non so, indicazioni stupide, adesso qua ti ripeto, ti riporto un po' di esempi in realtà, che mi vengono in mente in questo momento, più che altro, per situazioni di giorno, ma tanto, ti ripeto, sono solo esempi, oppure per esempio, io mi ricordo che sempre, qua parliamo proprio degli inizi, inizi di 2015, 2016, anche qua è un esempio da approccio di giorno, che chiedevo indicazioni stupide, tipo indicazioni, per magari, non so, ero in piazza Duomo Milano, e chiedevo a qualcuno, chiedevo indicazioni per piazza Duomo, e chiaramente, mi guardavano come un deficiente, perché eravamo in piazza Duomo, quindi non aveva senso, come cosa, ma lo facevo, perché è una cosa che mi faceva ridere a me, oppure di volte mi mettevo a parlare con i piccioni, in piazza Duomo, perché mi faceva ridere, come cosa, c'era un ragazzo in cui uscivo, che abbagliava delle volte alla gente, chiaramente, sono situazioni di giorno, però, devi trovare le cose che a te fanno ridere, può essere, adesso ti dirò, tra un po', una cosa in realtà molto efficace, per appunto andare a riscaldarti, vediamo però se mi viene in mente, qualche altro esempio, un'altra cosa che facevo, ma adesso ti spiego il perché, era una frase d'approccio stupida, che era pretente approcciare ragazzi, dicendo, eh ragazzi, è questa discoteca migliore di Milano, mettendoci poi il nome della tua città, ma perché questa cosa, era una frase d'approccio stupida, ma perché l'avevo vista, da un altro formatore in America, che appunto insegnava seduzione, ma lui diceva questa cosa qua, non perché era una frase d'approccio giusta, era una frase d'approccio, per partire proprio male, e andare poi a recuperare, allenarsi quindi nel recuperare, quindi poi gli sviluppi un sacco di capacità, però era una cosa che veramente, sicuramente l'avevo vista tantissime volte, in suoi video, a te le che erano nascoste, dove veramente lui la faceva in maniera così divertita, che era proprio diventata una specie di meme, e quindi facendola, mi divertivo, e quindi poi funzionava, quindi, però ti ripeto, può essere veramente qualsiasi cosa, oppure un altro studente, mi ricordo che per lui, per entrare in un mood divertito, si guardava sul telefono prima, i meme con il black humor, quindi tipo, non so, vignette tipo razziste, sessiste, eccetera, lui gli faceva ridere, se guardava prima, rideva, poi entrava in discoteca, e iniziava ad approcciare, già in una modalità più divertita, quindi questi erano giusto alcuni esempi, adesso andiamo avanti, poi ti dico, in realtà altri esempi, di cose puoi fare, diciamo, più tra virgolette comprovate, che diciamo, queste sono, diciamo, quelle che ti dirò poi più avanti, sono più o meno adattabili a tutti quanti, quindi se non ti è venuto in mente niente, va bene lo stesso, ti ripeto, appuntati durante le tue giornate, quando ridi, il perché hai riso, e cerca poi di riproporre queste cose, prima delle interazioni, o magari anche durante le interazioni, magari come frasi approccio, quindi, altra cosa da ricordarsi, è mettere in conto che i primi approcci, serviranno magari, non magari, molto probabilmente, per prendere il ritmo, quindi, i primi approcci sono, tra virgolette, l'agnello sacrificale, per andare a metterti in una modalità, dove sei riscaldato, per poi performare, corretente, tutta quanta la sera, in termini di fluidità, di conversazione, di essere coinvolgente, dell'approccio, ora, non per forza, i primi approcci, devono essere per forza, da sacrificare, per metterti in una modalità riscaldato, potrebbe anche essere, che i primi approcci, vada da benissimo, ok, quindi, non entrare con in un approccio, all'inizio serata, con, semplicemente la mentalità, questo allo sacrifico, perché tanto sei presente per riscaldarmi, e occhio, perché magari potrebbe essere, con quell'interazione, che sì, magari inizialmente sei ancora un po' meccanico, però, magari in quell'interazione, ti fai un'interazione magari di 15 minuti, con quella ragazza lì, in quell'interazione lì, sei partito, che eri ancora diciamo un po' rigido, ma ti sei riscaldato, soltanto in quell'interazione lì, e magari hai preso, un numero di telefono, magari l'hai baciata, hai preso le informazioni logistiche, quindi, ok, che magari i primi approcci, li sacrificherai, per entrare in un mood divertito, ma puoi anche ottenere dei risultati, anche già dai primi approcci, quindi non dare per scontato, che li sacrificherai, qua veniamo a una tecnica molto interessante, per andare a riscaldarsi, questa è la che uso tuttora, ad oggi, perché è molto efficace, sia per riscaldarsi, sia poi per anche andare, tra virgolette a colpo sicuro, quando approcci, ovvero, una della tecnica di semplicemente salutare, salutare i ragazzi a caso, in discoteca, quindi, quando ti sposti da un punto all'altro, della discoteca, o anche se sei fermo, semplicemente, saluta le ragazze che incroci, ok, ti stai spostando da un punto all'altro, della discoteca, tutte o quasi tutte, le ragazze che incroci, o quando ti senti ispirato, e lì bisogna poi andare a togliersi, l'ansia e approccio, ne parliamo più avanti, in questo corso, semplicemente saluta le ragazze, quindi con la mano, alzando la voce, sorridendo, perché, saluti, ciao, così, non verrai mai notato, quindi deve essere una cosa calorosa, ma non lo fai con l'intenzione di rimanere, ok, lì la cosa che è molto efficace, non lo fai con l'intenzione di rimanere, questa cosa va già a toglierti un sacco di pressione, e la cosa poi, figa di questa cosa, è che innanzitutto ti riscaldi, perché stai effettivamente interagendo, stai facendo delle piccole, delle mini interazioni, con le ragazze, e la cosa figa è che le ragazze ti salutano, anche loro indietro, per alcune effettivamente ti rispondono, ti salutano indietro, o le ragazze che comunque sorridono, se tu torni indietro e le approcci, sai che vai al 100% garantito, e poi non fai l'interazione da disagiato, però sai che se torni indietro e le approcci, otteni una reazione molto probabilmente positiva, poi chiaramente devi fare anche tutta l'interazione corretta, questa è veramente molto forte, la utilizzo tuttora ad oggi. Poi un'altra tecnica molto interessante per riscaldarsi, e anche poi per ottenere dei risultati, però è fatta principalmente per riscaldarsi, è la cosiddetta tecnica del hub, si schia HUB, quindi la parola in inglese vuol dire centro, quindi la tecnica è il centro, non so tanto, è inutile, non serve a niente dare un nome, semplicemente si va a creare un gruppo di ragazze sconosciute, ok? Lo facevamo ai tempi, con le persone con cui usciva approcciare nel 2015-2016, veramente divertentissima da fare, chiaramente se sei con degli amici sfigati, terrorizzati, che ti dicono, ah no, ti sei te stesso, ma io gli ho appoggio, eccetera, poi in realtà non approcciano, durante tutta quanta la serata, è infattibile farlo, e quindi si potrebbe fare anche da solo, ma è veramente molto molto difficile, quindi devi esservi anche con degli amici, con almeno un altro amico, per fare questa cosa, quindi semplicemente, non è così semplice, ma in realtà è molto fattibile, praticamente qualcuno, magari te, inizia e approccia una ragazza, un gruppo di ragazze, o quello che è, e inizia a interagire, e quel punto lì diventa appunto il centro, il punto di ritrovo, ok? E gli altri, quindi l'altro tuo amico, o altri tuoi amici, dipende in quanti siete in discoteca, gli altri, vanno anche loro ad approcciare altre ragazze, che sono lì nei dintorni, e le approcciano subito, dopo 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, quello che è, dicono alle ragazze in questione, ah venite a conoscere le nostre amiche, ok? Oppure dice, anche per scherzare, ah vieni a conoscere la mia fidanzata, ok? Roba di questo tipo, e l'altro amico, quindi porta, mettiamo che sia un gruppo di due ragazze, il tuo amico porta queste due ragazze, dove ci sei te, che stai interagendo con quelle altre due ragazze, e siete già in 6, sei tu il tuo amico, più due ragazze che ha approcciato te, e due ragazze che ha approcciato il tuo amico, e queste due, queste quattro ragazze qua, questi due gruppi, due ragazze, loro non sanno la vicenda, che non le conoscete, che le avete appena approcciate, quindi perché il tuo amico gli avrà detto, ah vieni a conoscere le mie amiche, è molto più facile far fare uno spostamento a delle ragazze, se ci sono altre ragazze, un conto dirà, viene a conoscere il mio amico, non ha molto effetto come cosa, se viene a conoscere le mie amiche, oppure viene a conoscere la mia ragazza, cose di questo tipo, che è fatto con il sorriso in maniera divertita, le riesce a spostare molto facilmente, ora, tu immagini questa cosa, moltiplicata per 5 uomini, per 10 uomini, certe volte abbiamo fatto questa cosa qua, che eravamo in discoteca, in 10 uomini, e chiaramente tutti quanti sapevamo, come si approcciava, e c'è veramente un delirio, una follia, perché poi anche magari, perché poi la cosa figa, è che per esempio, un'altra che avete portato i ragazzi in un punto, tanto basta rimane un uomo, nel gruppo, e l'altro può andare a pescarne altre, ok, quindi può diventare una cosa che veramente è infinita, e si crea questo mega gruppo, di ragazze che non si conoscono fra di loro, ma loro pensano che sono tutte quante ragazze, che già conoscevate, tutte quante delle vostre amiche, ok, quindi, questa è una cosa molto molto utile, per andare a divertirsi, per entrare nella modalità sociale, veramente una roba divertentissima da fare, e occhio però a non cadere nella trappola, del farla soltanto per riscaldarti e divertirti, perché appunto l'abbiamo fatta tante volte, questa cosa qua, con amici dei tempi in discoteca, e però poi dopo un po', quando crei un gruppo con tanta gente, diventa anche molto confusionale, molto caotico, cioè a un certo punto, se sei riscaldato, fregatene di portare l'altra gente, sceglitene una, con cui magari stava andando bene, e rimani in interazione con lei, quindi ho fatto tante volte l'errore in passato, di, ah no, devo portare l'altra gente, altra gente, altra gente, e magari ce n'era una, con chi stava rispondendo benissimo, stava andando benissimo, e la mollavo lì per andare a tirare dentro altre ragazze, e poi dopo un po', dopo un po', se portate un sacco di gente dentro, comunque le ragazze, dopo un po', capiscono che state portando dentro un sacco di, capisco più o meno cosa sta succedendo, non che sia un, cioè non c'è niente di male, anche se lo capiscono, e però qualcuno poi si stacca, ok, quindi quando più gente, da più gente composta il gruppo, più poi, certo un po', non hai il controllo se qualcuno si stacca, se ne va, eccetera, quindi giustissimo per riscaldarsi, e divertirsi, ma poi tieni conto che, se ce n'è una, effettivamente con cui stando bene, ti interessa, sbattite nel cazzo, di portarne dentro altre, e continuare l'interazione con lei, magari a un certo punto, la stacchi dal gruppo, e continui l'interazione con lei, lo vedremo poi in lezioni successive. Poi un altro modo per riscaldarsi, vabbè, è il classico, ballare, ok, quindi non a tutti piace, entrare nella pista ballo, e ballare, però anche se comunque non ti piace ballare, non sai ballare, cioè di base, maggior parte delle persone che compreranno questo corso, non sanno ballare, cioè, incluso me, quindi, non è una cosa indispensabile, saper ballare, quando vai in discoteca, ma semplicemente il fatto di essere in pista, e muoverti un po', più sei in movimento, più si crea energia, ok, quindi, molto semplicemente per quel motivo, ti vai a riscaldare, semplicemente muovendoti un po', poi se sai anche ballare, è una cosa che ti piace, ti metti in una modalità positiva, sociale, divertita, benissimo, ancora meglio, però il muoversi un po', nella pista ballo, soprattutto, magari se c'è anche una musica che ti piace, adesso facciamo una parentesi su questo discorso, soprattutto se c'è una musica che ti piace, cioè ti vai a divertire, mi ricordo, qualche serata in passato, dove magari c'erano musiche che mi piacevano particolarmente, era molto più facile entrare in una modalità divertita, anche perché magari oltre a ballare, magari cantavi anche, quelle canzoni lì, ora facciamo una parentesi, che ho sentito veramente tantissime volte, nel corso degli anni, sia da vecchi amici, sia anche poi da studenti, ah ma in questa serata facevo una musica di merda, ma tu non devi andare in discoteca per la musica, ok, tu vai in discoteca per rimorchiare, per scopare, non per la musica, poi la musica è un plus, ma uno non può essere limitato da là, la musica non mi piace, ah quindi non posso rimorchiare, cioè queste sono le scuse di perdenti, tutti quelli che dicono, ah la musica fa schifo, è tutta gente che non ha uno scopa, poi un altro modo per andare a riscaldarsi, e divertirsi, è il, lo conosci Ted, chi sa, ha già capito, e faccio aspirazione per chi non sa, quindi, esiste una serie tv che si chiama, How I Met Your Mother, quindi chi monterà il video magari lo scriva qua, in sovraimpressione, è una serie tv, un gruppo di amici, c'è due dei personaggi, sono uno che si chiama Ted, che è il protagonista, e l'altro si chiama, un altro dei personaggi principali, si chiama Barney, viene già da ridere, si farà pensare, e uno di questi personaggi si chiama Barney, e che è il tipico Casanova, con il rimorchio a un sacco di ragazze, e quando appunto questi due qua, escono delle volte nei bar, o a far serata, delle volte appunto Barney, quindi questo va il Casanova, delle volte magari approccia delle ragazze, faccia tipo il tap tap sulla spalla, a delle ragazze, e gli diceva, lo conosci Ted? e poi si dileguava, e si andava via, e quindi Ted si incazzava sempre, però poi alla fine rimaneva in situazione, e interagiva con la ragazza, e però questa qua è una cosa, la facevo io delle volte con dei miei amici, la facevano a loro volta con me, chiaramente non dire lo conosci Ted, lo conosci, e dici il nome del tuo amico, e magari un tuo amico lo fa anche, a sua volta lo fa con te, ok? Mettiamo che non so, quindi ti chiami, che cazzo ne so, Marco, un tuo amico, magari approccia un ragazzo, e dici, ah lo conosci Marco? E il tuo amico se ne va, e si interagge con questa ragazza qua, quindi, è una cosa che la facevo, perché appunto, avendola vista in questa serie tv, mi faceva ridere questa idea qua, quindi di volte la facevo con degli amici, di volte loro la facevano con me, è una cosa divertente per buttarvi nelle situazioni, adesso invece vediamo un concetto all'opposto, ovvero un errore, che ti fa scendere totalmente l'energia, ti butta totalmente nella tua testa, e poi non ti fa più approcciare durante la serata, ovvero, quando entri in discoteca, non iniziare a camminare per ore, ore, ore in giro per la discoteca, spostarti da un punto all'altro, procrastinando l'approccio, ok, quindi, regala così mi spostavo, lo facevo anch'io queste cazzate qua, quindi, spostarsi all'interno della discoteca, magari capitava molto spesso, anche quando magari, i miei amici approcciavano, e magari io rimanevo un attimo fuori, magari per appunto, per non apparire quello sfigato, agli occhi della gente, che c'è lì, ti ripeto, non gli frega niente nessuno in discoteca di te, non sono lì a guardarti le persone, però, siccome, quando si è soggetti, a paura del giudizio degli altri, si hanno tutte queste cazzate in testa, e diceva, così mi sposto, mi da un punto o l'altro alla discoteca, così faccio vedere che non sono fermo solo, in discoteca, e ci si inizia a spostare, sei lì, non lo so, nell'atrio, vai al bar, poi al bar, stai lì fermo, poi dopo ti sposti, vai giù, non so, in bagno, vai, che cazzo ne so, se si inizia, questo giro infinito, per la discoteca, dove continui a procrastinare l'approccio, più continui a procrastinare, come ho già detto prima, più, quindi in questo caso è all'opposto, quindi meno fai, più l'ambiente fa te, quindi quello che succede, è che si rimane poi schiacciati dall'ambiente, e se sei inesperto, se sei ancora principiante, e quello che succede, è che poi non fai niente tutta quanta la serata, quando sei principiante, ricordati che il come andrà la serata, tante volte lo si vede già dai primi 15 minuti, diciamo da prima mezz'ora, dai primi 15 minuti, barra mezz'ora, che non significa, che allora per forza, se non approcci i primi 15-30 minuti, allora non fai niente tutta quanta la sera, duella con te stesso, rimani lì in discoteca, continua a duellare con te stesso, sforzati di approcciare, anche se non sei riuscito a approcciare, nei primi 15-30 minuti, rimani lo stesso, duella con te stesso, e ne parliamo poi, anche nella lezione successiva, riguardo all'ansia approccio. Sei pronto a essere invidiato, da tutti i tuoi amici, con cui esci a far serata? Scopri come far sesso, con nuove ragazze in discoteca, a partire da stasera, anche se non hai mai avuto grandi risultati, e anche se non sei bello, ricco o rocco. Stai per scoprire strategie infallibili, per non sbagliare mai più un approccio, e a zerare quasi totalmente i rifiuti. Tutto questo nel nuovo videocorso, mago della discoteca, acquistabile per soli 47 euro, anziché 297, fino al 15 marzo. Garanzia soddisfatto rimborsato di 90 giorni, e per maggiori informazioni, ti basta cliccare sul link qui sotto, in descrizione. Hai domande o dubbi? Parla su WhatsApp, gratis, con un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link, in descrizione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS